Stefano Salieri dopo gara 2, la Fiorentina ha buttato anche il cuore al di là dell'ostacolo, ne sono successe di tutti i colori anche questa volta, le infortuni a Tureppo, le infortuni a Lasagni e siete andati molto vicini a prendere questa gara 2. Sì, parlo con un dispiacere esagerato perché stasera i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, siamo rimasti in partita e abbiamo creduto nella partita fino alla fine, giocando anche bene perché bisogna dire la verità abbiamo fatto anche per quelle che sono le nostre condizioni molto bene. Abbiamo reagito agli infortuni, abbiamo reagito all'assenza di Ture e di Lasagni poi, diciamo che secondo me chiave è stato il quinto fallo di Di Giacomo che ha aperto l'area e Conti e ha fatto la differenza in quel momento lì, ha ricucito prima lo strappo e poi ha dato il là al loro break anche facendo due movimenti importanti sotto canestro e servendo un assist a un taglio su un'azione allo scadere di 24 secondi. Situazione difficilissima Stefano adesso, sotto 2 a 0 venerdì è già partita a spalle a muro? Sì, spalle a muro, poi non sappiamo, adesso dobbiamo vedere domani, dobbiamo contare quelli che siamo rimasti perché Lasagni bisogna vedere la gravità della distorsione, mentre Ture io spero ha preso una botta nella schiena che gli ha bloccato il bacino, speriamo che si rimette conto di recuperarlo sicuramente, su Lasagni ho qualche dubbio in più. Senti se su gara 1 magari sulla carica emotiva probabilmente si poteva dire qualcosa oggi, onestamente non si può dire niente nemmeno su quello perché avete dato tutto quello che era possibile dare oggi. No, sono d'accordo, anche perché avevamo fatto una scelta precisa anche in difesa di essere molto più aggressivi sui loro cambi, su queste cose qua e direi che ci ha pagato, il problema è che purtroppo siamo rimasti scoperti e questo è stato, forse si recrimina su tante piccole cose, insomma mi vengono in mente anche al di là degli errori una partita punto a punto, uno può ricrimina su tante cose, i liberi direi che fosse stata la cosa più evidente in questa situazione.